L'avete chiesto in tanti, no? Non passava puntata di L'Espent Tonight Together e mi dicevate quando inviti la Giuliana Conforto, quando inviti la Giuliana Conforto, ecco la Giuliana Conforto. Ciao Giuliana! Ciao! Allora, no, io ridevo prima perché fino al momento in cui ho acceso per andare in diretta tu provavi di mandarmi delle immagini per quello di cui parlerai ma non ci siamo riusciti quindi a parte che c'era via in pdf poi l'avrei dovuta passare in jpeg, comunque storia nostra, no? Allora Giuliana, però tu mi hai dato, è bello perché lei mi dà i compiti, no? Allora tu mi hai dato il titolo di oggi, ok? Tu hai detto che come titolo è, a parte che tutti vogliono sapere del sole, di quello che sta succedendo ma lo direi ci dopo, ma noi umani siamo immortali? Perché hai dato questo titolo? Sì, sì, mi torno. Ma perché vuoi parlare di questo fatto? Perché... beh, perché ci sono due misteri nella nostra esistenza qui su questo pianeta uno è la vita e l'altro è la morte e non sappiamo che cos'è la vita, no? Però io su questo ho fatto un libro, come tu sai, risveglio la rivelazione dell'intelligenza organica e si basa sull'ipotesi che la vita sia una forza scoperta premiata pure con il Nobel nel 1979 che è un'ettrina eterna e onnipresente cioè ha le caratteristiche attribuite a Dio però è una forza della natura e in quanto tale comunica con tutti i corpi e i corpuscoli che ci formano che formano anche i nostri corpi la fisica li chiama quark e anti-quark ma comunque ci formano e quindi questa forza un'ettrina che è eterna e onnipresente in qualche modo spalanca la possibilità che anche noi siamo eterni ovviamente non con il corpo fisico che è il corpo che ora vediamo quello che trasmettiamo ma un corpo fatto di particelle che però abbiamo scoperto in laboratorio non lo vediamo con la luce solita elettromagnetica ma la scopriamo con siccome sono frequenze superiori che i nostri occhi non vedono ma con gli strumenti li vediamo quindi con il corpo che una volta i grandi saggi tra cui Giordano Bruno chiamavano il corpo di luce ok c'è una domanda strana di Rosa Canterino che dice ma ci si può stancare di tutta questa eternità? cioè noi siamo eterni, va bene ma tutta questa eternità ci possiamo stancare? il punto è che è un'eternità in cui scendiamo qui ci nasciamo, poi moriamo e poi ritorniamo ritorniamo tante volte quindi non è che cioè è variabile la situazione non è che stiamo sempre qui su questa terra potremmo stare su altri infiniti mondi che non vediamo con gli occhi ma di cui riconosciamo ora l'esistenza e li calcoliamo cioè ne parlava Gesù Cristo ne parlava Giordano Bruno gli infiniti mondi intelligenti e adesso li calcola un premio Nobel per la fisica che si chiama Roger Perrault quindi non c'è non è un'ipotesi assurda il punto è come viviamo in questa fase in cui appariamo su questo mondo e non significa che abbandoniamo gli altri mondi perché possiamo essere su tanti diversi mondi sono stati quantici che possono coesistere quindi ma pensa perché tu stai dicendo una cosa ad esempio io quando ho parlato a lungo con Sonia Benassi che è una medium le ho detto ma tu come fai se ad esempio uno vuol parlare con con suo padre ma nel frattempo o suo figlio si è incarnato in un'altra vita perché lui parla? e lei dice perché ci sono due mondi cioè lo spirito è sempre esiste sempre in una dimensione e poi c'è il corpo che va in varie dimensioni sono vari mondi non sono sono mondi reali ah sono mondi reali sono mondi reali solo che noi ne vediamo con i nostri occhi solo uno ma sono mondi composti di particelle che scopriamo nei laboratori ad alta energia non sono sogni non sono più sogni si chiama il modello standard della fisica questa forza unettrina eterna onnipresente che la fisica chiama elettrodebole è collegata con sei tipi di particelle e sei tipi di antiparticelle guarda caso è la stessa struttura dell'ultima scena di Gesù in cui Gesù è al centro ha sei opostoli da un lato e sei opostoli dall'altro quindi almeno il numero coincide ma poi anche il fatto che che hanno quello che la fisica chiama un diverso sapore è una qualità delle particelle la chiamata sapore e non a caso Gesù forse diceva sarete voi sarete il sale della terra perché il sale si dà un nuovo sapore cioè la fisica chiama sapore ciò che dà sapore e quindi è un gioco di parole che però è straordinario insomma ma allora Leonardo da Vinci quando dipinge l'ultima cena lui sapeva tutte queste cose era una era una persona che era molto aveva molte conoscenze allora io credo di sì penso anch'io ma c'è un'altra ultima cena che sta a Roma e la chiamano l'ultima cena dell'ultima cena del medioevo perché è fatta da sconosciuti insomma è un autore ignoto e quella ancora più significativa io questa pure vi mando l'immagine perché non solo ci sta Gesù e i sei apostoli da un lato e i sei dall'altra quindi che potrebbero essere i sei quarche e i sei antiquarche ma ci stanno anche la madre e il padre e quindi Gesù tra la madre e il padre dà l'idea di questa forza unettrina che anima tutti poi i sei apostoli da un lato e i sei dall'altra ma cioè Nani dice ma questi mondi li visitiamo nei nostri sogni è possibile non è non è diciamo certo ma è possibile e comunque sono fatte di particelle reali che osserviamo nei laboratori adesso quindi non è solo un sogno è anche una realtà ecco dobbiamo sapere scusa aggiungo una cosa che noi con gli occhi non vediamo niente vediamo solo pochissime frequenze certo ma non abbiamo gli strumenti ne vediamo pochissimo siamo quello che si dice ciecati micchi micchi dice quindi lo spirito ha tutte le memorie delle vita passate lo spirito non la mente e il corpo lo spirito dunque io quando si parla di spirito mi incazzo un po' perché perché non è spirito è materia è solo una materia che non vediamo con gli occhi è fatta di particelle reali ora osservate il laboratorio ma sono in frequenze tali che non le vediamo ma sono particelle materiali o anche antiparticelle perché dobbiamo sempre ricordarci che esiste sia la materia sia l'antimateria l'ha scoperta fermi no l'antimateria l'hanno scoperta anche prima è stata scoperta da tanto tempo quindi dobbiamo e il nostro stesso corpo produce gli anticorpi che annichiliano i virus nocivi è il nostro sistema linfatico quindi non è non è un mistero è anche medicina ovviamente medicina con una coscienza non legata ai vaccini artificiali insomma però allora guarda Massimiliano scrive la forza elettrodebole tanta lighieri la indicò come l'amore che muove il sole e le altre stelle è quella che è la forza che muove il sole e le altre stelle giustamente è la forza debole cioè quella che chiama debole la forza elettrodebole poi è l'unione tra la forza debole e la forza elettromagnetica sono le nozze sacre se vogliamo perché io le collego alle nozze di Eros e Psiche perché la forza debole è Eros che non è debole per niente perché sappiamo che l'Eros è potente e Psiche è invece la bellezza quindi è l'unione tra la bellissima Psiche e il dio dell'amore è una magia è una è un'unità che che ci accompagna da millenni di cui ora aspetti riconosciamo anche l'aspetto scientifico però il problema in questi casi è sempre sono sempre i nomi i nomi ingannano cioè non è spirito la forza debole è una materia che ha massa diceva Giordano Bruo è l'unica forza che ha mole lo diceva nel rinascimento e adesso si scopre che le particelle i bosoni si chiamano bosoni trasmessi dalla forza debole hanno massa hanno mole quindi quindi i grandi hanno anticipato visto cose meravigliose e noi siamo viziati da linguaggi che non non spiegano né nella realtà detta dai grandi né nelle scoperte di senti certo allora è chiaro che gli animali vedono e sentono cose che noi non vediamo però Elisabetta vedono frequenze che noi non vediamo alcuni ma noi le vediamo perché bene o male ci siamo inventati gli strumenti per vederle per misurarle nei laboratori quindi in qualche modo non dico che siamo superiori però abbiamo sopperito alla nostra cecità che è stato il problema no perché il problema della cecità è insomma antico come la storia umana che non riguarda la luce elettromagnetica ma riguarda fondamentalmente l'altra luce debole che anima e che ci muove ci commuove e che è eterna e onnipresente quindi è l'eternità la prova delle diciamo sperimentale a questo punto dell'eternità che non riguarda il corpo solo la materia fisica che vediamo ma riguarda tre generi di materia e tre generi di antimateria adesso i gatti forse la vedono infatti i gatti sicuramente vedono nel buio ma noi abbiamo il gatto di Schredding cioè noi noi riusciamo a misurarla ecco in qualche modo anche a comprendere quindi un pizzico di superiorità allora Giuseppe scrive Gustavo Roll infatti ha detto la materia è spirito tutto è spirito solo che quello dell'uomo è spirito intelligente è movimento diciamo questo è importante cioè datemi un punto fermo e vi sollevo il mondo che lo diceva Archimede non c'è non c'è un punto fermo nell'universo quindi la realtà è il movimento e la forza che anima muove è quella che la fisica ora chiama debole e che si sposa con l'elettromagnetismo quindi siamo in un mondo meraviglioso perché poi ora si calcola sappiamo che ci stanno altri tempi il dramma di questo mondo è il tempo la concezione è l'inganno sai che ho visto un documentario dove c'era un indigeno dell'America del Sud che ha detto che siamo stati fregati dalla religione dalle arbi e dalla concezione del tempo che ci hanno imposto perché loro non avevano la concezione non avevano le ore i giorni fra l'altro i mesi non sono quelli perché giugno e agosto erano giugno tant'è perché settembre il 7 ottobre l'8 novembre il 9 non è l'11 i calendari sono stati fatti apposta per ingannare insomma ma in America Latina poi hanno ci sono state delle scoperte straordinarie insomma tra l'altro ci sta non si capisce come hanno potuto costruire Machu Picchu questa città a 2000 metri fatta di massi talmente enormi che poi non li trovavano lì sul luogo c'erano chilometri più lontano e li hanno trasportati a 2000 metri è anche un altro diciamo motivo per capire che sembra che gli indigeni avessero la capacità di vincere la gravità anche le piramidi di Egitto insomma c'erano dei massi enormi e non era facile spostarle ma le hanno fatte insomma quindi questo predominio della gravità che ci vincola al suolo ora in realtà potrebbe essere la grande illusione e qui c'è ora la teoria delle stringhe che spiega che potremmo vincere la gravità oh fermati cos'è la stringa allora Giordano Bruno diceva che invisibili fili uniscono uniscono ogni essere al tutto ma noi abbiamo l'idea che le particelle siano palline invece la teoria delle stringhe che è stata sviluppata di recente considera le particelle come delle corde e in quanto tali vibrano e in tanti quali si muovono e si possono collegare ad altri corde che si muovono quindi questa teoria è adesso è di grande successo ma è pochissimo conosciuta perché siamo abituati a pensare la materia come palline ma l'idea della pallina insomma dalla fisica quantica in poi e soprattutto con la teoria delle stringhe annunciata da Giordano Bruno peraltro è una teoria più avanzata e molto più efficace rispetto alle precedenti insomma allora quando tu parli di piramidi di massi portati su ad esempio io con Arianna Mendo che si è vista in un'altra vita mentre costruiva il labirinto che c'è in Sardegna dove eravamo a Bitti e diceva che c'erano i maestri i sacerdoti che suonavano una musica con determinate vibrazioni di modo che si poterano prendere le pietre e portarle perché c'erano delle frequenze pazzesche ultimamente si parla tanto di frequenze io stesso ho appena pubblicato un video che sta avendo un grande successo dove con un apparecchio mi fanno un check up completo sulle frequenze e con le frequenze mi curano quindi si parla sempre più di frequenze come non si è mai parlato prima è tutto musica musica la realtà è geometria e musica ma lo diceva Pitagora stiamo parlando di millenni fa e quella la fisica quantica lo spiega cioè se non lo spiega lo utilizza le frequenze anche cioè è tutto solo una descrivere un atomo e con vari movimenti tra cui c'è anche la frequenza non c'è solo la frequenza c'è anche la rotazione la rotazione i salti quantici ci sono insomma ci stanno sette movimenti per un solo atomo di idrogeno migrañosissimo quindi figurati noi siamo fatti da miliardi di particelle quindi ci sono tanti movimenti di cui la cui importanza per la salute è la coerenza la coerenza e sì e questa viene misurata oggi da una diagnosi nota la diagnosi la magnetoterapia la magnetoterapia come si chiama? magnetoterapia? no sì un conto la magnetoterapia no ma è proprio la l'analisi della delle frequenze che che vibrano nel nostro corpo sai quando ti mettono in un tubo e esci, quello dimostra, e quella può anche vedere se c'è cancro, perché il cancro è la confusione tra le varie due, ma vede molto di più, ad esempio l'esperimento che ho fatto non solo vedevano i problemi, la prima cosa che mi ha detto mangia meno dolci, mi ha parlato, non solo vede le cose fisiche, quindi i problemi fisici che tu puoi avere, ma vedi i problemi psicologici, mi ha detto gli anni in cui ho avuto dei traumi, mi ha detto a livello psicologico delle cose, che tu dici ma come fa, e avevo semplicemente una striscia qui con dei sensori e il computer, questo creato da uno fuoriuscito dalla NASA, che ha 11.000 frequenze dentro, quindi in grado di curare anche tutte le frequenze, ed è qualcosa di incredibile. Senti, cambiamo un attimo argomento perché, allora devo dirti che ci sono migliaia di domande, ma veramente migliaia di domande, oltre a tutti i complimenti, diciamo che quello che ti può far più piacere sono due, uno che sei affascinante con le tue parole e l'altro che hai un sorriso stupendo, perché sono complimenti che in effetti sei molto, diciamo che io gli scienziati li ho sempre tenuti un po' a distanza, però tu sei l'unica scienziata che proprio mi, cioè io ti voglio un bene della Madonna, quindi allora, senti, volevo chiederti questo, dice, Red, chi della conforto se sa come mai nel sole si è formato un buco nero delle dimensioni pare 80 volte il pianeta Terra, intanto è vera questa notizia o no? Sì, è della foto che ti ho mandato e che non sono riuscito a mandarti, è 60 volte, è apparso nell'8 dicembre del 23, insomma, ed è apparso, tra l'altro, quattro giorni prima era apparso un'altra, un altro un buco nero però era più storrontiniacolo, piuttosto bruttino, invece questo era proprio tondo, è incredibile, sì sì, però non lo definirei un buco nero, il punto che era diretto verso la Terra, un incontro ravvicinato, diciamo, tra la Terra e il Sole, perché evidentemente, insomma, sono comunque frequenti, sono raggi visibili e sono fotoni e i fotoni sono le particelle della luce elettromagnetica. C'è stato questo incontro, sì, ed è secondo me stato molto importante, è stato un indizio di questo matrimonio sacro, diciamo, fra la Terra e il Sole, perché poi quello che stiamo scoprendo è che non solo il Sole emette luce, ma la Terra emette suoni, perché la Terra pulsa, la Terra emette onde sonore, acustiche, e l'uso delle onde acustiche ha permesso di vedere tutti gli strati interni della Terra, ed è incredibile, questi strati interni sono quelli che Dante chiamava gironi, e anche lì c'è un'immagine che poi spero di poterti mandare, quindi di metterla quando parlo di questo, e questi gironi li hanno misurati ora, non sono, sanno che hanno le stesse dimensioni una del pianeta Mercurio, un altro di Marte, un altro di Venere, e un quarto della Terra. Quindi ci sono cinque strati che sono, tra l'altro, hanno fra di loro, hanno un gap, si dice, un gap è vuoto, per cui Dante aveva ragione a chiamarli gironi, perché ognuno è libero di girare in modo indipendente dagli strati sottostanti o sovrastanti. Cioè hanno trovato questa struttura, la geofisica sta facendo scoperte straordinarie, e non è diffusa tanto quanto l'astrofisica. E poi non solo, al centro della Terra, due geofisici, sono cinesi, Youngs, non mi ricordo i nomi, però loro hanno visto che ci sono due strati sferici, uno dentro l'altro, uno ruota verso est e l'altro ruota verso ovest. E questa è la visione di Dante quando è di fronte al paradiso. Dante insieme a Beatrice osserva, dice, gli spiriti beati che ruotano uno verso destra e l'altro verso sinistra. Guarda, mentre tu parli di questo, c'è Michele Baldini che scrive, Ighina, che era un folle scienziato che faceva piovere, Ighina diceva che dentro la terra c'è un cuore che batte al ritmo del sole. No, non è il ritmo del sole, batte, ruota, questo sì, ma tutto il mio libro è sul sole al centro della Terra, cioè il vero sole non è quello che vediamo fuori, che è certo è un sole che emette luce, perché il sole al centro della Terra emette suoni, emette movimento, si muove e quindi emette il suono. e la tesi di Pitagora, la realtà è geometria e musica, è proprio, diciamo, espressa da questa coppia che è da una parte il sole e dall'altra la Terra. Ecco, ma scusa, ma allora c'è possibilità che ci sia una vita all'interno della Terra? Secondo me sì, perché la luce non è luce visibile, ma c'è il suono, è il suono che anima, è possibile che siano tutti, però questo è quello che dice Dante, dice Amero, dice Virgilio. Ma allora, ho una domanda per la dottoressa, la rotazione a destra e a sinistra dei due strati può essere il motivo del magnetismo e della gravità? Sicuramente il magnetismo è l'effetto del movimento, io sto parlando dei due strati al centro della Terra, nel cuore della Terra, che ha un raggio piccolissimo rispetto alla Terra, e mi pare che sia un ottavo, un decimo, insomma, molto piccolo rispetto all'intera superficie della Terra. Però gli strati sono stati ritrovati perfettamente dalla geofisica. E altro strato, lo strato più ampio, è circa 3.000 chilometri, è la parte sottostante alla crosta terrestre, quella in cui, anche lì, ci potrebbero essere corpi viventi, cioè i morti potrebbero essere vivi, perché ricevono il movimento dall'interno della Terra. Certo, non col corpo fisico che conosciamo, ma un altro corpo di cui conosciamo però le particelle. Senti, Giuliana, ho una domanda strana da farti. Ma il fatto che complessivamente in questo momento ci siano più di, credo, sulle 7.000 persone che ci stanno seguendo, che è un palasport intero, praticamente, un grande palasport intero, cosa significa? Al di là del fatto che tu sei affascinante quando parli, significa che c'è più interesse, perché i tuoi discorsi non sono facili, cioè ci sono delle persone che hanno già scritto io questa qui me la devo rivedere 3-4 volte per capire tutto, andare a fare delle ricerche, perché tu parli, per quanto tu sia comprensibile, sei sempre una scienziata, parli di foto, di bosoni, di queste robe qui. Allora, cosa significa che ci sia tanta gente interessata e sta crescendo? Perché? C'è un interesse, ma cosa sta succedendo? Beh, sta succedendo, io il mio libro lo chiamo il risveglio, perché la gente si sta risvegliando dal lungo sonno dell'illusione, l'illusione è la luce elettromagnetica che crediamo che sia l'unica, invece no, c'è un'altra luce, tale ha detto Gesù, e dopo l'ha detto Giordano Bruno, e ha detto è l'unica luce che ha mole, mole significa massa, in italiano rinascimentale, cioè epoca di Gerrano Bruno. Ebbene, la luce debole, che poi scopre Enrico Fermi, è l'unica che ha mole. Quindi c'è gente ispirata, sensibile ai messaggi della natura, che comprende ciò che la fisica impiega millenni, perché prima deve costruire i laboratori, deve fare la fisica, la chimica, non ne parliamo, io non mi sta antipaticissimo. Allora, devo dirti che tu sei un'assenziata totalmente anomalo, perché gli essenziati non parlano mai di spiritualità di Gesù, di Giordano Bruno. io preferisco pure io non parlarne, mi piace la forza però, la forza debole, la forza debole anima, e questo è sperimentale, non è una chiacchiera insomma. Ok, allora, poi, dunque, mamma mia quanti ce ne sono, è una meraviglia questa scienziata, ha una pacatezza di mia nonna, la dolcezza di mia madre, e la testa di un genio. Mamma mia, ragazzi, questo qui, quello... Io sto ripetendo le scoperte fatte. Eh, vabbè, 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 comunque, comunque, ah, c'era un'altra cosa che diceva, aspetta, ah, Dante descrive i tre mondi all'interno della Terra, ed è la famosa Terra Cava. Dante descrive Eldorado, Shamballa e Agarta. No, è Dante, no, questo non è Dante. Dante, comunque, ci stanno i vari mondi interni, è stato, ad esempio, eh, un fisico francese pure che ne parlava, era il contemporaneo di, oddio, come si chiama, è il contemporaneo di, eh, eh, oh Dio, era contemporaneo di, di quello che ha scoperto, è Pursi Muove, come si chiama Pursi Muove? Galileo Galilei. Galileo Galilei, che, ha detto una cosa intelligente, perché tutto si muove, questa è la realtà, non c'è un punto fermo dell'universo, e che cos'è che muove? Io, a volte mi piace dire, commuove, è la forza debole, che, ovviamente, Galileo Galilei, eh, non conoscevano all'epoca, perché la scoperta è Enrico Fermi, quindi, 1933, faccio presente che, questa, forza debole, è servita a costruire, la bomba atomica, che, gli Stati Uniti, hanno buttato prima su Hiroshima, e poi su Nagasaki, quando la guerra era finita, e che in realtà, non c'era nemmeno bisogno, insomma, ormai era vinta dagli alleati, Però, è stato un modo per creare una nuova paura, la paura del nucleare. Sì, ho capito, ma, secondo te, ma questo mondo, che è molto Sodoma e Gomorra, ma non merita un'estinzione? Questo essere umano, che distrugge tutto, distrugge la natura, in nome del denaro, manda bombe, hanno fatto un genocidio a Gaza, hanno ucciso, hanno tolto la vita. Guarda, è una cosa terrificante, però, dobbiamo capire, c'è chi sarà preso, e chi sarà lasciato, dice Gesù, che c'è, anche a livello scientifico, c'è la teoria della biforcazione, quindi, e questa biforcazione, in fondo, dipende dalle nostre scelte. Non è, non siamo vincolati a credere, e a seguire gli orrori dei nostri governi. Possiamo capire le forze della natura, possiamo usare la forza debole, e non usare la forza forte. La forza debole unisce e anima, la forza forte separa e confina. Quindi, noi siamo, questa in qualche modo è una scuola, di fronte alla quale noi abbiamo l'abilità di scegliere, e non dobbiamo credere, dobbiamo percepire. La forza debole, tutti i grandi l'hanno chiamata l'amore, la forza forte, l'odio, il rancore, la rabbia, il potere si basa sulla rabbia e sulla paura. Liberarci dal potere non è combatterli, è usare il lato luminoso della forza, adesso potremmo dire, dopo la scoperta della forza elettrodebole, quindi, e non è fantascienza, è scienza, anzi direi che è coscienza. Ho capito, ma quando tu ti trovi con un mondo gestito dalla forza quella forte, quella malefica, che cosa puoi fare? Non è il mondo gestito, è che usano la forza forte, non è il mondo gestito, perché ciascuno di noi può scegliere di usare la debole e non la forte. Vabbè, ma anche se tu usi la forza debole, e quindi l'amore, ti trovi in situazioni in cui loro vogliono soprafarti, vogliono metterti il marchio della bestia, vogliono farti delle punture che ti controllino, vogliono mettere delle robe nell'atmosfera. Può dire no, non è obbligato. Sì, ho capito che puoi dire no, però non puoi dire di no a quella roba che ti mettono nell'atmosfera e che cade giù. Io ho scoperto, ho fatto due analisi, ho dentro dei metalli pesanti, e quando mai ho preso i metalli pesanti mi arrivano dall'alto, da qualche parte. Se è arrivata giù della grandine che dentro è dell'alluminio, c'è dei blocchi di grandine così, da dove salta fuori. Red, c'è un'altra terra e questo l'ha detto Gesù ormai duemila anni fa. Poi Giordano Bruno ha detto è un unico organismo. Ora, quest'altra terra la osserviamo con gli strumenti ed ha la forma di un bambino gigante, è 4-5 volte più grande della terra sferica che crediamo sia l'unica e si muove in modo coerente. Ora sappiamo le caratteristiche dell'altra terra. nessuno, non capisco perché nessuno lo vuole capire. La vediamo con le immagini, io adesso te le manderò, ma comunque è visibile. È composta di plasma, capito? Ma Giuliana, guarda che le immagini del bambino attorno alla terra l'abbiamo già mostrata, c'è una bellissima intervista che abbiamo fatto con Giuliana, se l'andate a vedere parla di questa cosa qui. Ho capito, però vedi il concetto è questo, Giuliana, che noi andiamo avanti sorridendo, andiamo avanti con amore, andiamo avanti pensando che questa non è l'unica vita, che abbiamo uno spirito immortale, tutto questo. Purtroppo troviamo della gente sul nostro cammino che in realtà fa di tutto per distruggere perlomeno questo nostro corpo. ecco, non la forza debole, ma il nostro corpo, non lo spirito come lo chiami tu, la materia dello spirito che noi abbiamo, ma il corpo sì. Ecco, ci danno delle leggi assurde, abbiamo delle situazioni… Questa è una scuola, Red, questa è una scuola, qui dobbiamo imparare non a fare la lotta tra bene e male, dobbiamo imparare a discernere il bene dal male. quanti vogliono un mondo nuovo, un mondo giusto, un mondo saggio, privo di armi e privo di guerra? Tanti, solo che hanno dominato quelli che succhiano la stupidità, la credenza, l'illusione, quelli che hanno paura. Dobbiamo vincere le nostre paure, in fondo. È la paura che ci frena e che ci porta poi per rabbia. la paura e la rabbia portano a combattere, ma non meritano di fare combattuti. Cioè, se sei certo, se la senti dentro, non devi convincere nessuno. E siamo… non ti credere che siamo pochi, eh. E poi, anche se fossimo pochi, non c'è un limite che non si può superare. comunque la trasformazione della rivelazione dell'altra Terra è imminente e hanno notato che il cuore della Terra sta cambiando con estrema rapidità e questo lo scopre la geofisica. Quindi, c'è in atto una rivelazione di cui noi potremmo essere partecipi e anche… e soprattutto usarla, farla, compierla, che è una… è comprendere che quello che ci hanno raccontato finora non è detto che sia verità. Sì, è una massa di bugie. la tua serenità è strepitosa. Io capisco, capisco anche il tuo legame con Giordano Bruno. Non so se tu l'avevi detto che rapporto avevi con Giordano Bruno, mi sembra, nell'intervista. Ma, sento quello che lui diceva come verità, insomma, quindi… Ah, però tu avevi vissuto il suo… E non sono la sola, insomma, ci sono tante… Eh, allora… c'è tante che conoscono in lui, insomma. Comunque, comunque, è bellissima perché la tua serenità, vedi, a me piace questo programma. Perché? Perché è un'isola che non c'è. In realtà è un'isola che c'è perché esiste, È un'isola dove non c'è litigio e dove una persona cresce. La parola tua, ho usato la parola risveglio, hai fatto un libro sul risveglio. Marina Tonini ha fatto un libro sul risveglio. Cioè, la parola più usata è il risveglio, però non tutti si stanno risvegliando. Molta gente crede di risvegliarsi perché si ribellano, ma la ribellione non è il risveglio. Ma vedi, io dico sempre che questa è una scuola, c'è chi è arrivato a fare l'esame di maturità e chi invece sta ancora all'elementare. Vabbè, lo farà un'altra volta, insomma. non è il risveglio. 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 Tanti si ricordano delle proprie vite passate, no? Però altri no, altri non hanno la minima idea di aver vissuto altre volte, insomma. e quindi stiamo, ripeto, in una scuola e cerchiamo di diffondere queste scoperte che ora sono provate anche dal punto di vista scientifico perché la struttura a strati della Terra, cioè i gironi che danteschi, diciamo, ma gironi perché possono girare in modi indipendenti. Quindi se tutte queste strade della Terra girano in modi indipendenti hanno tempi diversi e quindi questa idea qui che ci mettono fin dall'inizio che c'è un unico tempo lineare e irreversibile è il potere temporale e questo è il grande errore. Certo. È bello perché Nani scrive Giuliana è serena perché conosce la verità. Conosci la verità, Giuliana? Ma sento questa vita che è che secondo me è la verità e questa vita è gioia, amicizia, è unità, è amore, non è... la possiamo sentire quanti la sentiamo quando siamo felici, quando stiamo nel parco, stiamo sui monti, sul mare. È una terra splendida tra l'altro, no? E poi ce n'è un'altra ancora più splendida. senti? Senti, ma, ma, scusa, Clemente scrive una cosa, ma è vero che Eugenio Siracusa ha detto che tu eri la figlia di Giordano Bruno? Non lo so, non lo so, ma non è importante, l'importante è quello che siamo ora. È certo. Bravissima dottoressa, non tutti purtroppo sanno vincere questa battaglia tramite l'etica. Quindi, c'è uno che dice che il 3 marzo 2025 succederà qualcosa. Tanti mi chiedono di questi tre giorni di buio che dovrebbero accadere, dove succederà tutto nei tre giorni di buio. Tu ne sai qualcosa o no? Eh, cavolo, è quello che proprio sta, di cui parlo spesso. Purtroppo vi, vi deluderò perché è l'inversione della magnetosfera terrestre. Cioè, noi stiamo, poi vi manderò le immagini, la Terra a forma di sfera è dentro una mela, guarda caso, una, che è la magnetosfera terrestre. E noi non abbiamo visto la realtà, abbiamo visto la magnetosfera terrestre. quindi, non è un peccato, è un fatto però. Allora, se la magnetosfera terrestre si inverte, cioè il polo nord diventa sud e il sud diventa nord, diciamo, uno è più e uno meno, nell'inversione c'è un punto in cui passa per lo zero. Siete d'accordo? Sì. Allora, a quel punto sparirà, ma sarà un attimo perché non si ferma mai, no? Però, potrebbero essere i famosi tre giorni di buio citati, anticipati da vari saggi, insomma. Quindi, e poi, però, che facciamo? Quando si è rigirato, si è rovesciato e noi vedremo il dentro che esce fuori, quindi, avremo un altro cielo e un'altra terra, insomma. E questo si spiega, cioè, è fisica ormai, è quasi fisica, diciamo, solo che è stato annunciato, no? È stato annunciato. Sì, sono stati anche annunciati il periodo in cui per un attimo vedremo due soli, dove dicono che il sole si spegnerà e Giove, che si sta trasformando, diventerà il nuovo sole. È possibile questa cosa? Io, secondo me, il vero sole è al centro della terra. E il sole al centro della terra, ora, cioè, grandi, parlavano del sole nero, E, cioè, i grandi, Zaratustra, in fondo, no? Che è vissuto 2500 anni fa, insomma. Questo sole nero al centro della terra potrebbe essere, visto nei termini attuali, un buco nero. è un buco bianco, e ora abbiamo teorie straordinarie, Hawking, Carlo Rovelli, insomma, eccetera, in cui un buco nero può diventare un buco bianco. Quindi, io mi aspetto che il buco nero al centro della terra si trasformi a un buco bianco e la terra diventa ciò che è, una stella. E noi che fine faremo, scusa? Noi siamo lì tranquilli, facisi, finalmente, vedendo l'universo intero, perché noi non abbiamo visto niente. Ah. la scienza non vede il 95% della massa che calcola. 95%! Vediamo il 5%, tutto il mito della cecità. Non è un mito, è la realtà, non vediamo niente. ma Giuliana, ma sei d'accordo che noi stiamo vivendo un momento che storicamente è forse il più importante della storia della terra che noi conosciamo? Sì, sì, ma ti dirò di più che alcuni dicono il 2025, qui ho la sensazione netta che avvenga prima e che avvenga entro il 2024. Beh, Marina Tonini che ha contatti con esseri di altri pianeti ha detto che è questione di mesi, gli hanno detto. Sono d'accordo. E che, in caso che l'uomo, diciamo, l'uomo che usa la forza quella forte voglia fare, scoppiare qualcosa di nucleare interviene subito. Ma dai, Red, ma ci stanno guerre da tutte le parti, orribili guerre, non è solo Medio Oriente, poi ce l'hanno con Gaza, con tutti, sono disperati. Sono disperati perché hanno capito… chi sono disperati? I potenti. Sono disperati? Eh sì, perché gli sta crollando tutta la bufala che hanno raccontato della realtà. E quindi sta uscendo la verità. Eh certo. E quindi loro… tra liberi e la verità, la vita è una forza della natura ed è questa la base poi dell'altro del mio libro, di basa sulla forza che è elettrodebole e che è passata aperta. Quindi loro stanno agendo stile Moia, Sansone e tutti i filistei? No, più che Moia cercano disperatamente di conservare il potere che è sulle armi e sulla paura, sulla rabbia, cioè le categorie mentali su cui hanno fatto tutte le guerre del mondo, ma ci rendiamo conto della follia. Non hanno… gli Stati Uniti che non hanno mai esitato a fare guerra, che bisogno c'era di buttare la bomba atomica su Hiroshima, cioè è stato un modo per aumentare il gioco della paura, perché il gioco del potere è la paura e la rabbia. Non dobbiamo cascare insomma in questo gioco. Una domanda che non capisco. Ronny, puoi chiedere alla signora Giuliana Conforto qual è il ruolo delle fiamme gemelle in questo cambio dimensionale? Non so cosa siano. Eh, non so manco io. mamma mia ragazzi. Allora, non so perché… È certo. C'è. Allora, secondo me stiamo vivendo un momento più importante della vita che sta vivendo ognuno di noi. In altre epoche ci sono stati altri momenti fondamentali, questo è il mio pensiero, ma sì, ma non li conosciamo. Noi non sappiamo nulla di Atlantide, non sappiamo nulla di quello che c'era prima del diluvio, non sappiamo queste cose e quindi della storia della Terra che noi conosciamo, non quella che non conosciamo. qualcosa sul diluvio sappiamo, perché ad esempio non c'era il Mediterraneo e cioè l'improvvisamente diluvio universale ha rotto il Gibraltar e è entrato l'acqua nel Mediterraneo e Noè ha fatto la nave, no? Quindi con tutti gli animali per salvare con l'arca di Noè insomma, quindi che ha previsto questo evento e poi dicono che l'arca sia sul Monte Sinai, no? Sia lì sul Monte Sinai però nessuno ci è salito che io sappia insomma pure. Ma tu credi veramente che c'è stata un'arca? Cioè che ciò che o era simbolica l'arca? Potrebbe essere simbolica e in fondo è capire che è sentire che la vita non finisce con la morte perché adesso quello che viene chiamato il modello standard della fisica in qualche modo dimostra che noi abbiamo tre cioè ci possono essere tre corpi diversi per ogni essere umano corpo fisico visibile e altri due che hanno nome e cognome cioè tipi di particelle che le compongono ma che non sono visibili con gli occhi le particelle le abbiamo viste nei laboratori quindi gli antichi non solo Giordano Bruno ma anche tutti i saggi e profeti hanno avuto una visione di cose che che in fondo ora stiamo ritrovando solo e gli diamo nomi diversi perché è scientifico comunque ci sono i tre generi di materia e i tre generi di antimateria possono formare corpi perché no ok nessuno lo vieta insomma allora Giuliana grazie ma stai lì perché adesso io ti unisco a a una persona che ti ha già incontrato a chi tu non ti ricordi però ti ha già incontrato Pier Giorgio Caria ciao Giuliana ciao Giuliana io e te ci siamo frequentati anche parecchie volte negli anni 90 addirittura assieme a te io feci una conferenza all'università della sapienza di Roma sui cerchi nel grano a ma dove a chimica per caso adesso non mi ricordo sono passati perché io fu una riunione in cui stava a chimica e comunque all'epoca frequentavamo io ancora lo frequento a Giorgio Bongiovanni l'ho stematizzato sì io l'ho incontrato una volta sì poi cosa avete in comune voi due sicuramente la nazionalità dicino la nazionalità qui però a parte questo discorso beh io ho letto e ho ascoltato tante cose di Giuliana soprattutto la parte che riguarda il cuore cristallino della terra e tutto ciò che adesso ho collegato poi la data che lei dà della scoperta del cuore cristallino del pianeta corrisponde alle informazioni che ho trovato io attraverso le mie ricerche e cioè che nel 1936 una spedizione dell'Anenerbe che era un corpo dell'SS particolare che il cui capo era Himmler praticamente fece un viaggio in Tibet e i tibetani praticamente gli dissero le stesse cose quindi le due date corrispondono ed è molto probabile che la notizia sia venuta da lì cioè fermati un attimo non ho capito niente cosa cosa dissero i tibetani alla spedizione dell'SS comandata da Himmler? Gli spiegarono del sole interno della terra infatti a parer mio il simbolo del sole nero di cui si freggiano i nazisti a tutt'oggi purtroppo anche in Ucraina è stato riesumato che poi è un simbolo che si trova in una grande sala circolare del castello di Wevelsburg che era il castello dove c'era la sede di comando dell'SS dell'Anenerbe che era una sezione speciale che si dedicava alle ricerche esoteriche che Hitler a Siena Himmler esatto quindi c'è il simbolo del sole nero che per me il sole nero non è perché è nero il sole occulto che sta all'interno del pianeta è quello che ora chiamano un buco nero esatto ma è un sole nel mio libro insomma è un buco nero ora sappiamo che può diventare bianco ma ti racconto un episodio Giuliana anni fa molti anni fa un caro amico professore di chimica andò ai laboratori del Gran Sasso con la scolaresca e la scolaresca fu portata nella sala dove hanno il rilevatore di neutrini e parlando col tecnico questo professore di chimica che si interessava di queste cose quindi eravamo grandi amici lui è stato un po' una specie di mentore perlomeno in quegli anni per me e parlando con uno dei tecnici che gestivano il rilevatore di neutrini questo tecnico gli disse ma è successa una cosa che ci ha lasciato perplessi e che non riusciamo a capire di solito i neutrini arrivano dall'alto e invece dice abbiamo rilevato è un neutrino che è sbuccato da sotto il pavimento e praticamente questo professore di chimica gli disse del sole interno e finì una litigata perché ovviamente questo tecnico non accettò quello che gli diceva questo caro amico ma abbiamo la prova scientifica e questo è accaduto non solo una volta che ovviamente i neutrini sono emessi dai soli quindi se un neutrino ti sbucca dal pavimento viene da dentro non viene da fuori sì ma poi i neutrini erano i granellini di senape di cui parlava Gesù no? perché sono sono piccolissimi e vengono e cambiano lo stato della materia perché ci stanno proprio trasformazioni fisiche che ora le conosciamo con i neutrini sono le onde sono tutte cose che si misurano ormai l'emissione di radiazioni è quasi sempre legata ai neutrini cioè legata ai neutrini questo è stato fermo mi pare che l'ha fatto che l'ha scoperto questo adesso non mi ricordo vabbè io non sono non sono un fisico Red sei muto comunque ci sono sempre più persone che credono che la terra sia piatta addirittura Filadelfos dice la terra è piana e il sole nero è una colonna elettromagnetica che fa muovere in modo circolare la cupola dove ci sono le luci e al le luci al plasma dette stelle però Red scusa per Natale le cambiano perché mettono quelle lampeggiante degli altri ah ecco sì meno male guarda solo a ridere di una stimola stupidaggine Red noi siamo andati al centro controllo voli spaziali di Mosca cioè la NASA all'epoca sovietica la NASA russa e abbiamo fatto amicizia con alcuni cosmonauti della Mir alcuni di loro Red si portavano la telecamera di casa per fare filmati per la famiglia dagli oblò della Mir quindi non sono filmati ufficiali e in questi filmati è chiarissima la curvatura della Terra cioè già Giordano Bruno aveva postulato la fericità del pianeta quindi pensare alla Terra Cava vuol dire avere un'ignoranza abissale a livello anche geografico io sono stato sulla linea dell'equatore in Ecuador e lì gli emisferi della Terra a livello di circolazione d'aria sono perfettamente divisi la girandola del vento che c'era sulla destra girava in un senso ma ti sto dicendo a pochi metri dalla linea dell'equatore che è piccola cioè si risolve in pochi centimetri a sinistra della linea dell'equatore il vento la girandola girava in senso contrario poi in questo luogo che era un museo all'interno a chito esatto e praticamente in questo museo che era un museo etnico il proprietario aveva anche una struttura metallica con dentro un lavandino di rame e praticamente se tu mettevi a sinistra della linea scusa a destra della linea mettevi il lavandino l'acqua girava in un senso spostavi il lavandino di due metri dall'altra parte l'acqua girava in senso contrario quindi chi parla della terra cava o della terra scusa della terra piatta è perché c'è una conoscenza molto piatta guarda io non discuto nemmeno c'è una volta una domanda no proprio non è poi red c'è il pendolo di Foucault che dimostra ah cavolo a Parigi quello che ti fa il pendolo io sono state altre ore di fronte al pendolo di Foucault cioè 73 ore scura cosa vuol dire sì perché c'è la rotazione non solo della terra ma c'è anche la rotazione intorno a se stessa poi c'è la rotazione intorno al sole insomma è tutta una serie di rotazioni il pendolo di Foucault dimostra insomma e poi è tornato indietro ci sono varie cose misteriose su queste insomma il discorso del del fatto che i poli i poli diciamo il polo sud dell'Antartide sia militarizzata completamente non ci puoi entrare se non con super permessi e devi conoscere chissà chi per poterci entrare perché lì ci sono cose molto particolari che sono legate ai dinamismi di entrata all'interno del pianeta c'è una famosa serie di foto del satellite S7 dove si vede chiaramente nella prima foto c'è la spaccatura gigantesca della crosta di ghiaccio dell'Antartide e poi pian piano si forma un grosso foro di apertura che è l'ingresso l'accesso dinamico al cuore interno della terra e altri ricercatori ufologici Red si sono chiesti ma perché i dischi volanti vanno tutti o verso sud o verso nord perché sono gli ingressi principali e addirittura quando l'ammiraglio Baird rimase prigioniero alcuni mesi nel suo rifugio antartico quando uscì la prima cosa che vide fu un fenomeno luminoso che partiva verso il cielo e ci sono altre testimonianze di importanti avvistamenti che sono avvenuti lì poi fu scoperta non so Giuliana tu lo saprai l'oasi di Bunger che fu scoperta proprio dal pilota con cui lavorava nella spedizione l'ammiraglio Baird e cioè più si entrava all'interno dell'Antartide e c'era e sempre c'era meno freddo e addirittura terre scoperte senza ghiacci quindi bisogna andare a studiare amici non leggere qualche cretina mi pare che c'è addirittura un lago sotterraneo non è Vostok che ha temperature elevate cioè non c'è ghiaccio guarda leggevo Giuliana leggevo giusto due o tre giorni fa di una nuova scoperta fatta dagli scienziati studiando la riflessione delle onde sismiche che praticamente hanno scoperto queste masse gigantesche sottoterra che è la parte interna del pianeta quindi c'è tutto da riscrivere poi vorrei ricordare che il pianeta gira a circa 1600 km l'ora intorno al suo asse allora il nucleo di ferro fuso al centro del pianeta è una corbelleria scientifica gigantesca perché se il gioco del secchio legato alla corda pieno d'acqua le forze centrifughe tengono l'acqua anche quando il secchio è al contrario tengono l'acqua schiacciata verso il fondo del secchio quindi la gravità viene vinta la legge di gravità dalla forza centrifuga ora il ferro metallo molto pesante a 1600 km l'ora verrebbe sparato fuori dal centro della Terra anche perché i pianeti si formano da masse incandescenti quindi man mano che c'è il raffreddamento della materia diventa più pesante quindi questa materia viene sparata verso l'esterno quindi sono tutti processi fisici cosa avevi da dire Giuliana? no ma è una cosa importante che il cuore della Terra non è ferro questa è una cazzata scusate che continuano a ripetere e lo sanno benissimo è la riserva più cospicua di carbonio allora il carbonio ha lo stato solido se solidificata come si chiama lo chiamano diamante infatti tanti esoterici hanno parlato del diamante al centro della Terra ma è carbonio è un errore e anche una solida una delle tante mistificazioni a parte che poi lì ai laboratori che sono lì in Antartide hanno trovato quantità enorme di neutrini e i neutrini provengono dal cuore della Terra neutrini e antineutrini quindi cioè si sanno queste cose escono fuori solo che così tendono sempre a fare confusione perché la confusione è l'ignoranza allora a parer mio scusa Red Giuliana cioè il potere che ha comprato la scienza chiaramente che non è più libera come fu nei suoi primordi ha creato una gabbia mentale nella testa delle persone la tiene prigioniera lì le persone si fidano dei cosiddetti esperti e non capiscono che questi sono solo dei truffatori dei venduti come la classe giornalistica che alimentano la schiavitù dell'essere umano non è un caso che c'è le stupidaggini che ti raccontano la scuola elementare pur si muove l'unica cosa di cui parlano è di insomma di cose squallide insomma non dicono tutte le scoperte che ci sono ma potrebbero io figurati quando avevo i miei figli piccoli andavo a scuola e speravo posso spiegare qualche cosa gli portavo le immagini le scoperte e i ragazzini erano felicissimi insomma però poi hanno proibito questo fatto insomma no ma guarda io ti racconto un fatto mia figlia Luna credo all'elementare in prima media gli fecero fare un tema sulle piramidi e lei che ascoltava tanti discorsi che venivano fatti in casa mia dove veniva tanta gente eccetera scrisce che le piramidi erano sistemate in base alle costellazioni del cielo no scrisse questa cosa qui le piramidi di Giza sono lo specchio del cielo lo diceva Giordano Bruno esatto bene la maestra gli ha detto forse ti sei confusa e gli ha dato quattro credo roba del genere cioè ma scusa ma se una bambina ti scrive una roba del genere ma la tua dovresti essere curiosa e dire ma perché questa qui scrive sta roba dire scusa ma chi ti ha del contatto sta roba qui se non la sai invece è l'arroganza dell'insegnante della scienza di dire io sono la scienza tu non lo sai come quando mi dicono io dico cosa bisogna mangiare che i medici dicono poco ma di tutto grande cazzata sono i cibi che fanno male e mi dicono ma tu sei medico tu ma tu sei sei un nutrizionista sono la scienza purtroppo non ha una roba importante che è la curiosità di imparare dovrebbe essere così purtroppo ormai cioè a cominciare da Galileo Galilei che ne ha detto di stupidaggi stiamo in una in una scienza che inganna pure ma come siamo messi allora a tutti e due faccio questa domanda perché tutti stanno dicendo che i tempi sono brevissimi anche prima Giuliano ha detto si parlava del 2025 ma secondo me è molto prima anche in un'altra diretta la Marina Torini hanno detto che è questione di mesi parti tu Pier secondo te è veramente tutto così veloce? è sicuramente tutto così veloce red a tutti i livelli sia sui piani della situazione dell'umanità perché la condizione geopolitica è terribile qui potrebbe succedere un patatrack dalla sera alla mattina quindi non lo sappiamo se dobbiamo guardare ciò che avviene all'ivero astrofisico del pianeta stanno accadendo cose gigantesche se dobbiamo vedere l'attività solare del 2023 è stata pazzesca il sole ha iniettato nel sistema spaventose quantità di energia addirittura a dicembre c'è stata un'esplosione di classe X5 che è la massima quindi stanno accadendo cose importantissime quindi il sole esterno e quello interno stanno modificando la materia compreso l'essere umano quindi questi fenomeni gli scienziati o alcuni scienziati li hanno benissimo visti e misurati ma viene tenuta l'umanità all'oscuro perché la classe dominante che è l'elite mondiale finanziaria non vuole mollare la presa sull'umanità e siccome sono in una gravissima situazione perché il fronte orientale li sta facendo a pezzi perché hanno perso la guerra eccetera eccetera quindi c'è una situazione di tensione adesso stanno l'ha nato in Ucraina perché l'obiettivo era conquistare la Russia e depredarla delle sue immense risorse che la Russia è la nazione più grande del pianeta Terra non gli è andata bene hanno perso la guerra pensavano di fare a pezzi la Russia nell'arco di un anno invece la Russia è in crescita l'intero occidente tranne gli Stati Uniti che stanno soffrendo la seconda guerra ma che stiamo stersendo quindi stiamo andando incontro a una situazione terribile per cui non lo so io credo Red che no non è terribile è la liberazione aspetta fammi finire Giuliana la situazione terribile se dobbiamo ragionare sul piano prettamente umano ma ci sono forze universali cosmiche solari che stanno intervenendo e quindi faranno quello che Giuliana ha detto la liberazione ma non sarà per tutti sarà per chi se la merita per chi ha raggiunto un certo livello di consapevolezza e di coscienza quindi la liberazione ci sarà da un certo punto di vista anche per la parte diciamo così meno evoluta della Terra o se vogliamo usare un termine brutto quella più ignava e malvagia ma sarà una liberazione che porterà a certe conseguenze ma di sicuro ci sarà quello che hai detto tu Giuliana la liberazione dell'umanità l'umanità si unirà al cosmo conosceremo gli altri esseri è la fine di questo sistema oppressivo che ci domina da secoli e secoli quindi essendo in gioco queste forze Red e chiudo la risposta i tempi potrebbero essere brevi o forse un po' più lunghi se magari da lassù vedessero che c'è ancora qualche spirito che potrebbe essere risvegliato perché comunque ci sono poteri che possono o accelerare o rallentare questi processi beh io sul diciamo sono sicura che esistono gli alieni il problema che comunque che noi siamo alienati siamo alienati da una cultura che è soprattutto ignoranza cioè quanti sanno che esiste la forza debole che è l'unica forza che ammole ditta da Giordano Bruno ed è la forza che ci anima e secondo me unita all'elettromagnetica la forza è la vita quindi comunque il concetto amiamo la vita cioè non è sappiamo che la morte è un'immagine muore il corpo fisico ma ne abbiamo un altro abbiamo un corpo eterico quindi qui non si tratta di di capire che la vita c'è sempre anche oltre la morte no? ce l'hanno detto non solo Dante e tanti altri insomma ma forse ce le ricordiamo pure no? queste altre vite insomma ok allora io saluto la mia idea scusa la mia idea aggiungo qualcosa alla mia risposta è che dobbiamo vivere ogni giorno al massimo lavorando per il bene dell'umanità anche nostro ovviamente ama il prossimo tuo come te stesso dare il meglio di noi stessi amare la vita amare il prossimo amare la creazione perché è meravigliosa questo periodo di oscurità passerà io ne sono certissimo e comunque già ora se noi vogliamo possiamo avere seppure nella tristezza delle cose che accadono possiamo avere una bella vita cioè io mi diverto un sacco viaggio conosco gente straordinaria conosco te conosco Giuliana quindi la vita anche adesso se ci impegniamo se apriamo un po' gli occhi ci può dare tante soddisfazioni e tante belle sorprese quindi mai abdicare all'amore per la vita mai assolutamente anche perché la vita è amore la vita è amore è l'amore che muove il sole e le altre stelle assolutamente d'accordo la chiamano debole perché non la capiscono Giuliana ma la forza più potente che esiste sì infatti è incredibile ma poi chiamano forte quell'altra che invece è l'odio la rabbia sai cos'è Giuliana questa gente se non c'è qualcosa che scoppia non gli piace guarda penso che poi il povero Fermi che l'ha scoperta è morto giovanissimo proprio per le radiazioni che ha subito insomma sì sì ok Giuliana ti ringrazio sei stata splendida tecnicamente perfetta questa sera proprio è funzionato tutto perché eccetera e poi ci tranne le immagini che non mi hai mandato sì ma non ti credere quel figo di Pier Giorgio Caria mi ha mandato delle immagini adesso adesso cioè 15 minuti fa via WeTrans che mi sono scaricato non so neanche cosa siano perché mentre poi mentre parlo con voi io guardo i commenti sento cosa ditte e più lui mi manda le immagini adesso quindi sta tranquilla che allora hai visto Giuliana che oggi mi sono preso il cicchetto da redrone ok ciao ciao me lo meritavo perché per non essere ok ciao Giuliana ciao Giuliana lo abbraccio grande ciao ciao grazie